Ok, eccomi. Mi sono messo una maglietta sotto perché avevo tanto freddo, altrimenti è inverno, quindi ci può stare avere freddo. Dobbiamo consegnare qualcosa alla stazione? O anche il meccanico è scomparso? Ah no, ok, il meccanico, la ragazzina. Che è un meccanico, quindi... Allora... No, troppo... Troppo... Signora! Mi ha smentito per il discorso di femma. Oh no... Oh no... Oh no... Oh no... Oh no... Mildred? Come so? Are you expecting more mail from your son? It's just... It's just... This week... It's all a bit much for me. I need to get my hair done for Sunday's special evening, but I can't leave my cats alone. And then all of a sudden, Frank has gone missing. He still needs to bring me an envelope. Please tell me that you have it with you. I'm afraid this is just a postcard. But what do you mean he needs to bring you an envelope? Oh... Don't be a nosy posy, Meredith. Oh dear, oh dear. He can't just have vanished into thin air, can he? Don't worry. I'm sure Frank will show up again. Oh, Franky boy. Always making me worry too much. And I need to cancel the hairdresser's appointment. But what if I can't reschedule? Oh, don't worry about it. Your hair looks just fine. No, no, no. My hair looks like a mess. I can't go out and about looking like... Oh, alright. Maybe I can look after your cats. Oh, thank you so much dear. Just show up at 7. And eat as many cookies as you'd like. Impressionante, però. Unsha if we have water on the floor. This is cold water still, but it's very cold сейчас. With my house in the ground now. This is about 3 minutes. I should go off. I should go off and get it out. Forza The only one thing about not going off. Eccolo Come ti vestiti Ok I have no idea where it came from but it's absolutely rad It's mine actually Mickey and June gave it to me You know that young couple down by the lake campground Whoa really? That's so tight Here they left this note on the driver's seat Oh let me read it Life's a journey and not a destination Just grab the wheel and enjoy the ride Love M&J So what are you going to do with it? You have to hit the road I'm going to have a little idea where it came from I actually don't really want it after all Maybe you'd like to have it You know keep it here and tinker on it Oh yes that'd be amazing You know I love tinkering But it's going to need a lot of work Good to hear Lori I can already hear the cause of her head spinning I don't know if it's going to be here a while I should give it a name first Can't have such a beautiful vehicle and not give it a name How about the sea turtle Big slow washed up just like a turtle Or the raccoon Because it's got brown spots and it's full of trash Or the hermit shell I had many owners over the years Just like the shell of a hermit crack I like the sea turtle Good choice I'll get working on it right away See you later Bye Perfetto Cos'altro manca Ah just Un'altra cosa Da consegnare alla Alla casa Oh yeah Oh dear Oh dear Oh dear Potremmo ritornare in quella casa lì? Immagino Ma su cosa... su cosa si è schiantato? Va bene Va bene Ah no Questa è una casa normale Facchetto piccolo Questa è più lunga Dobbiamo tenere i gatti Domenica Tenere i gatti Poi Era messo Giovedì oggi eh? Per il gioco? Giovedì è oggi? Non lo so Lo ho detto Ma deve stare Gatti Vabbè intanto Un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa Pressione di nuovo Ah Si, si, si 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 Oh Si Questo è buona cosa Ah Un'altra cosa Che interessante Oh For Christ's sake Go away If I've told you once I've told you a thousand times You must have me confused with someone else, sir Oh, bloody heck Do I sound like I care? You lot are all the same to me Just go away How many yokels are there in this backwater town? Do they realize people come out to these kinds of places because they're supposed to be remote and quiet? Sir, if you don't want to be disturbed, don't mail order anything? I I I do beg your pardon I Yes I am expecting a package I didn't know you were from the postal service, ma'am You didn't know anything about me before you started shouting, and yet, you did it anyway All right All right, all right I'm sorry It's just I've been under a lot of pressure lately for my publisher, as well as my wife I do appreciate your driving all the way up here, and lord knows I'll be needing those ribbons Just Just Please leave them on the porch, and And Thank you You're welcome Sir Hmm Hmm All right Now Where was I? She threw the key in the lake Then what happens? Oh, Christ's sake She made me lose my bloody train of thought No Wait I got it And then he says Yes La gente non sta bene Ehhh Allora Andiamo Un'altra giornata è stata fatta Merda La fiancata Oggi è Buongiorno Miss Weiss Buongiorno Mr. Morgan I wanted to let you know that today was my last date Ok Oh, really? Will Frank be coming back then? That's all I have to say Good luck Dai, ho fatto una battuta, amico, non prendertela No Ehh 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 You sound a bit agitated Ok, so this is going to sound like I'm 16 But I have these tickets to a really big concert tonight for Barry and me And it seems the babysitter has just bailed on me Alright, so maybe the babysitter part doesn't sound like I'm 16, I hope Anyway, it's Journey, so I'm like, I need to go tonight and I got these tickets ages ago And it's a long drive to Portland so we'll probably be out all night and I promise you I've called everyone and their brother besides they're really good kids to watch tonight Whoa, 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 whoa Alright, recap Journey tonight, in Portland, got tickets, sit or bailed So I guess you figured out by now that I'm awkwardly trying to ask if maybe you could do me a huge favor and watch Grace and Max tonight? Hmmmm Aspetta, ma noi abbiamo i figli, non possiamo Aspetta, aspetta, eh Ho una sola opzione, ho questo o l'altro Ehh Watch your kids? Yeah Ah, sorry to bring us on you like this, by the way I tried to find you earlier, but you and your van are kind of hard to locate during the day Listen, if you can't make it, don't feel that I mean, maybe I can try to get tickets for another time, you know? I'm sure there will be future tour dates in the area and stuff, and if not, I'm sure some other cool concert will come along soon So I completely understand if you're tired or if you've got other stuff tonight Allora, io mi prendo un appunto, perché c'è una soluzione molto semplice che è ehm Portare i figli a casa di Mildred Per poter sia badare i gatti che ai bambini Allora questa è la soluzione più logica in queste situazioni Di solito io non faccio queste cose Comunque questo è tipo il barbievi che fa il cliente esterno degli hotel La soluzione più logica sarebbe andare a prendere i bambini E poi andare dalla casa della signora con i gatti Per poter fare le due cose in contemporanea Voglio vedere se si può fare Non è problema Quindi a che tempo mi necessite? Sei un'esercizio Non devi portare niente C'è città, video, anche una replica di cardone di Apollo 11 Con un set di helmet match Ti sei scoperto Vediamo Vediamo E i gatti? Vediamo 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 Sì Allora Abbiamo Da consegnare Una lettera qua Un pacco qui alla baita Sì Poi diverse cose qua C'è un posto noto? Sì La baita e la foresta Allora Non so come sia andata la questione Sì Merida Sì 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 Ok Domani è sabato Quindi Sabato E Ma Con Robert Sì 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 Lo potevo consegnargliela dopo Va bene Si è buggato Sì Questa Questa mi piace Ti direi Anche questa non è malissima Mettiamola via Tutta nella stasca ovviamente Ok Allora Allora Poi Poi le rivediamo eh Sì Andiamo Oggi stesso Direi C'è qualcos'altro Da fotografare qua Niente di particolarmente rilevante Niente di particolarmente rilevante Ok In realtà questa è una bella Aspè Così Tipica cittadina di montagna Tipica cittadina di montagna No aspetta Era così Qua là Se ancora mi ha chiesto Dove essere da mezzo al cazzo Ok Così Poi anche da quest'angolazione Ok Ok Ora Mettiamo via Ok Poi anche una foto Al cielo Gli alberi Non sarebbe malissimo No Io non abbiamo mai confinato nulla Quella qua da a fianco mi pare Ok Ok Qua Qua Undici Guarda questa che bella Oh Interesting E ora E ora Gli andiamo a dare E abbiamo fatto anche la cosa delle foto Non sono nemmeno La prima volta Vabbè i primi due Per ridere L'avevo fatto da lei Non sono nemmeno malissimo Ok Ok Pine street Andiamo Mello il cestino Il cesto Il canesto non cesto Hello Friday Delivery Day Well Just call me Friday Delivery Kay Ok No That sounded better in my head Someone's in a good mood today Yes Thanks for looking after Max and Gracie last night You were a real trooper for stepping in last minute No problem They were great I appreciate the lie So, how was the concert? Oh, yeah. Man, Journey is so good. Those songs have been stuck in my head all day. Eh, that sounds great. I know, right? There's just so much cool stuff being created right now, you know? I mean, Journey was cool. I got to know them through Barry at first, but I tell you, if Prince or New Order ever came to Portland, I would sell my spleen for tickets. One spleen, two bands. That's quite the potential dilemma. Oh, and I haven't even mentioned Cyndi Lauper, or Run DMC, or Stevie Wonder. And before you go there, I know you're probably setting up a joke about spleens and hammond organs right now. Joke's on you, because I don't even know what that means. You know, music organ, body organ. Never mind. All jokes aside, though, I spent half the concert thinking about how I haven't really focused on my own music for a while now. Kids, work, all that stuff. So much going on. And I mean, I love tinkering, but right now, I'm not sure I'm even creating anything cool or just... You know? Not even Barry is allowed to listen to my songs at this stage, to be honest. I'd love to hear your music sometime. I'm sure it's great. Thanks for the vote of confidence. Maybe I'll hold you to that. I was thinking. I have a mixtape with some of my stuff, you know? Just something I've been trying out with my new synthesizer. I'd be honored. That's great. It's just something I've been playing around with. Don't expect any fireworks. And hey, don't tell me what you think yet, yeah? You'll be my secret special audience of one. So I can get used to the idea of an audience. Any special reason? Okay, don't tell anyone. But... I'm thinking of performing a song on my new synth this Sunday. Holy crap, I just said that out loud. Dude, you are coming to the open mic, right? Cazzo? Merda. Merda. Devo andare ad annullare la festa. Ho permesso a lei di andare, quindi... Open mic. Sì, devo annullare la festa con la signora del bar. Oh, yeah? No one else knows yet. See you there. Sure thing. Have a great day. Thanks. You too. Merda. Prima di dimenticarmene. Devo andare subito. Dove è il linere? Sì, vai qua. Poi vi torno lì. Devo parlarle subito. Cazzo, me ne avevo completamente dimenticato. Merda. Ok. E' questione di vita di morte. Ma perché? Ma quindi posso? Allora. Ah, venerdì notte. I gatti. Ok, allora non c'è nessun problema per i gatti. Cazzo. Che casino. Allora. E non me le segna le cose? Allora, niente. Non me le segna. Quindi... Se non me le segna dovrebbe andare tutto bene, no? No? Non lo so. Non mi segna nulla. Guarda, c'è una con Robert. Ok. Niente, l'ultima cosa che mi segna, là c'è una con Robert. L'open mic o l'alta fresta non me lo segna. Ok. Quindi oggi bisogna ballare i gatti. Ok. Va bene. Che casino. Eh, però lo fai apposta. Ma è casa di Lego? Ok. Cos'altro che non lo segna nell'altro rand. Scusa. Perché le altre cose me le segno. Quindi, manca questo. Cos'è altro dove consegnare? Ritorniamo qua. Andiamo a dare il pacco al pescatore. Poi credo che chiuderemo quel video. E la giornata nella prossima parte. Merda. Ho fatto prendere del pane. Vabbè, la macchina ti serviva. Ok. Sì. L'ho perso il pacco. Sì. A me è stata forse molto più grande. Dove te la consegno? Su, giù. Dove sei? Ti stai muovendo. Buon uomo. Oh no. Te la devo conseg... Te la lascio qua? No. Ma l'ho visto passare io. Ma è lì? Ehi. Qua? Che cosa cazzo... Io sono qui, eh. Se lei ha voglia... C'è bugato. Va bene. Ma che io non devo consegnerglielo là giù? Ah, le waxworms hanno arrivato. Ah, eccoti. C'è ragazza. Eh. Mi ha detto il pacco, signora Weiss. Sono i miei uomini. Per pesciare. C'è proprio in tempo. Mi prendo un pozzo a l'islanda questa mattina. C'è ragazza. Buongiorno. Buongiorno. Eh, puoi tagliare, se vuoi, come il tuo padre aveva. eh oh non possiamo accettare tutto anche perchè mi son perso quando era e non voglio ma cazzo non voglio agglomare le cose ecco